Adesso io voglio chiamare un altro imprenditore, ci spostiamo un po' nella cartina geografica, andiamo nel centro Italia, un produttore abruzzese, lui si chiama Giovanni D'Alesio. Eccolo qua. Benvenuto Giovanni, anche a te, raccontaci la tua esperienza e la tua idea di crescita. Grazie, buongiorno a tutti, volevo ringraziare anch'io per avere la possibilità di parlare qui a questo festival che io penso che in questo momento un festival che dia un messaggio così positivo ci serva. La nostra azienda è in Abruzzo, ha una storia dal 1800, siamo agricoltori, ha avuto varie fasi, è stato il grande periodo della mezzatira dove questa azienda non è stata gestita direttamente da noi. Poi negli anni 60 mio nonno che era professore d'agrari ha preso direttamente l'azienda. Nel 2009 mio nonno ha convocato i suoi figli che facevano tutt'altro, quindi mio padre e mio zio, chiedendo loro cosa volessero fare con l'azienda perché lui a 86 anni aveva qualche piccola difficoltà. Mio zio che si occupava di ristorazione ha deciso di intraprendere questa avventura e spostarsi dalle Marche e tornare in Abruzzo per seguire direttamente l'azienda. Sia io che mio cugino abbiamo appoggiato in pieno questo progetto molto folle per i tempi con cui nel 2009 avevamo i primi difficoltà. Abbiamo deciso di non far morire le nostre tradizioni e di portare avanti quello che comunque è veramente la storia della nostra famiglia. Io mi occupavo di altro come lui. Allora la prima difficoltà che abbiamo avuto è che in Abruzzo l'80% delle aziende si occupano di vino e olio come la nostra. Quindi ci siamo posti questa grande domanda come ritagliarci una fetta di mercato in un mercato ormai abbastanza saturo soprattutto per il vinicolo e per l'olivicolo. Così unendo una passione che avevamo un po' tutti e tre, sia mio zio che mio cugino e io, per le bollicine abbiamo voluto dare una nuova veste al Montepulciano d'Abruzzo. Abbiamo pensato che le migliori bollicine del mondo sono fatte in parte da Pino Nero. Proviamo anche noi a spumantizzare il Montepulciano, cosa che non è assolutamente nella nostra tradizione in Abruzzo. Abbiamo creato questo prodotto ed è stata una grandissima scommessa. Io particolarmente lo sento un po' come un figlio perché l'ho voluto fortemente, l'ho curato in tutte le sue parti dalla parte esteriore del packaging, ma soprattutto anche cercando di inquadrare un gusto nella parte dello spumante. All'inizio andavamo in giro verso i clienti, anche in Abruzzo, che ci sbeffeggiavano ridendo ma cosa avete fatto? Adesso le bollicine, lasciate fare le bollicine a chi li sa fare, quindi molto verso il nord. Però ci abbiamo creduto, abbiamo pensato che un turista se viene in Abruzzo può provare anche una bollicina abruzzese che sicuramente li rimarrà in testa, avrà quel ricordo di cui parlava Erika prima, tu provi qualcosa che sia del posto. Se vieni in Abruzzo e assaggi una bollicina ottima del nord, del Prosecco e Franciacorta, non hai questo legame sul territorio. Questa scommessa è iniziata veramente così, per caso, per gioco, una sfida. Adesso è il prodotto di cui produciamo numericamente più bottiglie. L'80% di questo prodotto viene distribuito in Italia, ma soprattutto nella nostra regione. Quindi è una sfida che io ho avuto personalmente, è spostare un po', perché in Abruzzo abbiamo un grandissimo problema. Abbiamo una regione fantastica, abbiamo le montagne, il mare vicinissimo, abbiamo veramente, siamo la regione verde d'Europa. Però noi abruzzesi non crediamo in quello che abbiamo sotto i piedi, alla bellissima biodiversità della nostra terra. Quindi il fatto che questa bollicina abbia conquistato gli abruzzesi, anche i ristoratori abruzzesi, che abbiano creduto un po' anche loro nei loro vitigni, è stata una sfida molto sentita da parte mia. Quindi sono molto contento di questo. Altro problema l'abbiamo avuto con l'olio extravergine d'oliva. Tutti quanti produciamo olio in Abruzzo e vendiamo a pochissimo, purtroppo. Come facciamo a creare un appeal diverso al nostro olio? Abbiamo studiato un packaging, abbiamo creato delle mini lattine che sono diventate più un oggetto di marketing, che è olio extravergine. Poi che la qualità da dentro sia buona, sia un fattore in più. Però abbiamo cercato di giocare un po' su questo. Quindi è stato un progetto che è stato visto al Vinitaly dal manager del Bar Martini Dolce & Gabbana a Milano. Hanno fatto un'etichetta loro, l'hanno usata in tutti i loro punti vendita. Quindi è stata per noi una gratificazione. Con l'olio abbiamo iniziato a giocarci. Abbiamo iniziato a... Con mia cugina, che si occupa della ristorazione dell'azienda che abbiamo nelle Marche, abbiamo creato un cioccolatino artigianale all'olio extravergine d'oliva. Quindi anche qui, col Nord, abbiamo avuto il cioccolato, il burro, il burro, il burro. No, usiamo l'olio extravergine d'oliva. Abbiamo il 70% di grassi saturi in meno. È un prodotto più digestivo. È stato difficile coniugare l'olio extravergine perché abbiamo comunque dovuto usare un burro, un burro anidro in sapore e in odore per dare la consistenza giusta a questo cioccolatino. Il Natale di due anni fa questi cioccolatini sono stati usati come cadò di regalo per tutti i dipendenti della HP, la nota casa di computer in Germania. Quindi è stata anche questa una bella soddisfazione che ci ha fatto sorridere per un'altra idea strampalata che qualcuno ha apprezzato. Dopo di questo abbiamo pensato di creare un nuovo contenitore per l'olio. Abbiamo un problema. Per l'olio extravergine d'oliva misurare un quantitativo molto piccolo era praticamente impossibile, con la bottiglia o con la lattina. Allora abbiamo, tramite uno studio e una ricerca che abbiamo fatto, abbiamo pensato di metterlo nello spray. Quindi abbiamo fatto misurare quanto liquido uscisse da ogni vaporizzata. Quindi che era 0,5 grammi ed è il modo più preciso di misurare delle quantità così piccole d'olio. Questo modo di misurare l'olio è stato notato da alcuni chef, da Cucina Evolution e da molti di quel segmento nutrizionista per quanto riguarda le diete e misurare le piccolissime quantità d'olio. Quindi è stato messo proprio nelle loro ricette e nelle loro esposizioni di piatti. La nostra unità di misura come una vaporizzazione di olio shard ci ha fatto molto piacere. Grazie, grazie Giovanni. Ci hai raccontato un'esperienza bellissima e tra l'altro ci hai dimostrato come anche tu da new entry nel settore, quindi da non agricoltore, hai deciso in realtà di dedicarti al cibo, alla campagna italiana e quindi apportando soprattutto una dose di innovazione importante che non è necessariamente tecnologica, ma molto spesso è un'innovazione anche di prodotto, di processo, di servizio. Grazie, grazie Giovanni.